Io sono italiano, e adesso ti metto un coltello in un occhio. Quindi, anche se i generi sono diversi, il racconto che va al pubblico ci deve essere ovviamente... La scienza cinematografica è nata quando ho visto il 2001 di Siano lo spazio. Credo di averlo visto 197 volte. Ora, in questo momento e in questo momento, molto ha a riguardo con la fotografia dei film. Nostalgica per e preferito cose che sono più driven by the art. La mia relazione per andare in un film è che spero che non sia dissapointed. Si ha mangiato tanti uomini e si è ancora fame di carne umana. Perché se sei freddo, ho qualcosa per te. Se vuoi mangiare... Oh, grazie, amore! Grazie! Wow! Grazie! Grazie a tutti! 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 I think the most important thing is never feeling stuck and trying to feel and stay true to myself.